Ecco lo stivello a teppistello ragazzi, buonasera a tutti, ben ritrovati stasera facciamo un'altra bella challenge Conco Plotti ha sbirciato nei commenti e ha scoperto che Peter Siri ha detto non sono soddisfatto, ho parezzato l'altra volta ma ho bisogno di un'altra challenge voglio migliorarsi, fare le decisioni più col petto andando giù bene e battere lo stivello allora ho deciso di fare l'altra sfida stavolta però non perdono, stavolta do il massimo ok, proseguiamo grazie a tutti 33 difficile, devo allenarmi anch'io però è un bel bel numero, andando giù bene, spingendo giù col petto sono contento Peter Siri, vediamo cosa riesci a fare dai mo, ti voglio carico ragazzi se vi è piaciuto il video e ne volete vedere altre di questo tipo mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale, visto che siete numerosi e vi state iscrivendo in tanti e anche attivate la campanella dell'allarme che è fondamentale, lo dico sempre perché vi permetterà di ricevere le notifiche ogni volta che faccio un video vi voglio bene ragazzi, un forte abbraccio, alla prossima